Ciao amore, è buono? E' buono questo leoncino? Amm! 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 Au! Amore! Amm! Amm! Oh, chi è questo bimbo? Chi è? Leo? Chi è? E' lì! E' lì! E' la prima volta che? E' la prima volta che si vede che ho un po' di muscolo di qualcosa che è caramellato con l'insalata russa dentro. Ok, ci siamo, dai! Ci abbiamo aggiunto il tartù. Ok. Però è sempre l'insalata russa, quindi un grande classico dello chef, che viene racchiuto. Amore. Te lo sto facendo io. Ok, allora. No, 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 no. Qui abbiamo... Dov'è questo? Quelle facce! Qui abbiamo un fungo, che azzarderei il porcino. Perfetto! Ho sparato a cazzo! Bravissimo! Quello è già un po' più... Anguria! Ti vedete chi fa il tamor! Che cazzo mi hai detto? E' la faccia di Carlo! Ti ho detto anguria! C'è anguria! Ma il mare stai facendo! Che cazzo è? Scusa, dai! E' marrone! Riso! Riso soffiato! Riso soffiato! Riso soffiato! Riso soffiato! Ma... Una maionese fatta in casa! Sì! Va, eh! Spagna, vai! Spagna, vai! Spagna, maionese e riso soffiato! Croccante! Vai! No! Devi un favore a Carlo, adesso! Cos'è? Lo scoteremo! Cos'è? Vado bene! No, no! Bravo! 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 Ah, più o meno! Buona! Era buona la pappa? Era buona la pappa! Sei ancora tutto sporco in testa, amore! Era buona! Hi guys, this is my look today! Balmain skirt, GcDS sweater, There's Su's jacket and your boots, hat, and bag. Chi è questo bimbo? Stupendo! È stupendo! È stupendo questo bimbo! Wow! Baby number one, baby number two. Ciao, Mari! Amore, che bravo! Che bravo sei! È la sua ombra, amore. È bella questa ombra. Che fai, amore? Cosa stiamo guardando? Stiamo guardando Sausage Party che non è proprio un film da bambini, vero amore? Cosa sta dicendo questo zio stupido? Grazie. 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 Grazie.